e bella a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti in questo nuovo video visto che Star Stable non sta ancora caricando avevo in mente di creare l'immagine profila del canale e ci metterò un po' ma spero che il video vi piaccia allora 23D scusate se il mio PC è un po' lento però cerco di non lo so, non cerco di fare niente vabbè, comunque ora sta entrando e niente ok allora prima di tutto creo un colore base quindi non lo so ma tipo, aspettate voglio fare bello scusate se è un po' lento ma il mio computer è così e ci vediamo alla fine di quando avrà terminato tutto sto coso ok, eccoci qui, ho usato questo perché questo sinceramente era sinceramente lo dico 1200 volte ma era davvero niente no raga, aspettate che figata no vabbè, lasciamolo così e allora vediamo gli adesivi e vediamo quale sceglio e poi ve lo dico quale sceglierò ovviamente bene raga, ho scelto questo allora non so come farlo sinceramente allora diciamo no ok, allora scusate ho un po' di problemi più stupici del cavolo perché mi sta troppo antipatica va bene allora ho pensato di fare una cosa non lo so lo so che sto video è meglio no che schifo sembra sporco non lo so è un po' noioso ma raga non ho senso questa cosa no ok spessore non speravo di farlo così e non lo farò così perché sinceramente non lo schifo raga non so è di tal modo ci vediamo alla fine quando avrò colorato sto cavallo e niente raga ho deciso ok l'ho finito ma ho deciso che è molto una schifezza tutto sfumato e allora lo ritaglierò è lento in pc allora io non so allora dove la raga è impossibile che pizza oddio ok ce la posso fare la raga ce la posso fare le brille non le prendo credimi scusate perché è impossibile oddio no me l'ha eliminato ma grazie ci vediamo lavoro finto ma ci sarà infinto ok ce l'ho fatta ho preso solo questo perché è impossibile è venuto una cosa bruttissima ma comunque allora donna che non ci vediamo spessore gigantesco ok no no bruttino ok 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 credo e che direi di fare lo sfumato ok questo no ok ritaglio vada che ci sono forse è meglio così perché youtube no aspettate aspettate io sbaglio completamente ma allora adesivi la mia schifetta ok 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 bella grande che schifo ok niente è finito e niente spero che il video vi sia piaciuto lunghissimo mettete un like iscrivetevi al canale commentate ciao